Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniela e oggi purtroppo sono senza Laura. Vi chiederete il perché. Allora, in pratica ve lo spiego subito. Oggi la mamma di Laura non lavorava, quindi all'uscita della scuola l'è andata a prendere e appunto non è scesa con me. Scusatemi se il telefono tramballa, ma questa strada è tutta indicezza. E vabbè, comunque tranquilli, questo sarà, scusatemi se sentite musica, ma ci sono delle persone che hanno messo musica a casa. Comunque, in pratica, stavo preso il filo del discorso benissimo, in pratica appunto Laura non è pronto a scendere con me. Però state tranquilli, perché sarà un caso rarissimo che io faccia i video senza Laura, quindi non vi preoccupate. Ci volevano pure le campane, proprio le manca... le manca... ragazzi! Le campane non potevano mancare. E quindi appunto ci sono anche le campane. Come vi stavo per dire, sto tornando a casa. Guardate, intanto, che bella via piena di fiori. Va bene, questo? Madonna, una volta c'era uno che rischiava. Infatti, oddio ragazzi, ma volevo cominciare... Madonna! Aspettate, riprendo, qua non ci sono più le campane. Ok, andiamo su, Zenetto. Hanno smesso le campane, e direi per fortuna anche... Oddio ragazzi, mi devo fermare un minutino. Comunque, spero che il nostro video presentazione di prima, c'è il primo video che abbiamo fatto, vi sia piaciuto. Saranno casi rarissimi che io sia senza Laura o Laura sia senza me. State tranquillissimi. Allora ragazzi, abbiamo deciso di aprire questo canale. Per svago, per un divertimento, per qualcuno di così, perché, c'è, altri motivi non ce ne sono e ci sono persone che mi guardano. Ok, da questa via non ci passano nessuno. Oggi che io devo fare questo benedetto vlog da sola, passano 300 persone. Non lo so... Colomba, ti fai, fatti i tuoi che non sono a fare i tuoi questi. Comunque, appunto, devo registrare un video, passano 600 persone, qua tutte in fila. Va bene, non so il perché, ma mi sento tipo osservata. Non so se qualcuno mi sta, tipo, osservando dei balconi, però non lo so, io ho paura. In pratica, quando Laura mi ha detto, senti oggi devo uscire con mia madre il vlog, non lo possiamo fare. Ho detto, e no, dai, il secondo giorno non possiamo lasciare, c'è le persone senza niente, senza video. Quindi, scusate per i capelli, vabbè, senza video il secondo giorno. Quindi le ho detto, per te va bene se lo registro sola. E lei mi ha detto, sì, si registra sola, come vuoi. E vabbè, qualcosa è attraente. Comunque, è questo, ragazzi. Ovviamente, cioè, vi volevo spiegare questa cosa. Nell'editing dei video, cioè, nelle cose. Allora, ovviamente, pure io le so mettere le musiche e le cose. Però è molto più brava Laura con gli editing dei video. Ok, comunque, ragazzi, sto arrivando a casa. Mi sono fermata 5 minuti con la signora, molto sexy. Allora, mi sono fermata 5 minuti qui perché stavo morendo, proprio letteralmente. Questo zainetto oggi mi sta dando un fastidio. C'è il cambio di motoria e, vabbè, non vi dico il sudore. Allora, ragazzi, mi dispiace se questo video è stato molto breve. Però, senza Laura non posso fare, non posso fare tante cose perché, appunto, devo aspettare lei. Comunque, poco fa, tipo, ho dovuto staccare subito perché, mentre stavo camminando e vi stavo parlando, è passato un motore super rumorosissimo. Infatti, penso che quella scena la taglierò, però, vabbè. Allora, ragazzi, vi saluto a tutti. Noi ci vediamo in un prossimo video e ciao!